musica 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 quindi, per esempio il consiglio Leonardo mi disse che insomma va più veloce almeno quando la volta è nel tempo biologico quindi noi abbiamo bisogno Adesso ci sono quelli che si chiamano gli agenti intelligenti del web, cioè ci sono tanti programmi che sicolarmente prendono delle piccole informazioni. Allora perché ogni volta che compro una roba su Amazon ho preso le cuffie per i giorni qua adesso mi ha smarronato con tutte le cuffie del mondo, io l'ho regalata a un mio amico con delle belle cuffie e adesso prendo avanti dieci giorni, quindi vuol già dire, lo sapete, che c'è un sistema che allora in cui poteva vedere esattamente cosa compra, quanto l'ho pagato, mi classifica e in quella perceologia mi comincia a proposti. Grazie a tutti.